La Notte Rosa in programma il primo luglio diventa l'occasione per dire no alla violenza contro le donne. Linea Rosa e Spiaggia Ravenna, in collaborazione con gli stabilimenti balneari, hanno presentato oggi in conferenza stampa tutte le iniziative per una riflessione sulla violenza di genere. Quest'anno abbiamo riconfermato la collaborazione che abbiamo con la cooperativa Spiaggia Ravenna e saranno presenti in tutti gli stabilimenti balneari, oltre un centinaio di tovagliette americane, usa e getta, con un buon messaggio per dire no alla violenza contro le donne. Quindi sono 21.000 coppie e ci auguriamo che attraverso questo messaggio si possano raggiungere anche tutte quelle persone che non si sarebbero approcciate a questa tematica. Poi in contemporanea, la sera proprio del primo di luglio, al Bagno Wave, il Bagno Wave ha deciso quest'anno di collaborare con noi, scegliendo la nostra associazione e organizza una sfilata di moda con musica, intrattenimenti vari e parte del ricavato verrà devoluto alla nostra associazione e sarà l'occasione anche in quel momento di rendere note le nostre attività. Il sabato pomeriggio, il 2 luglio, il Bagno Oasi, per già tre anni consecutivamente, ha organizzato questo torneo di racchettone rosa dove tutte le donne che partecipano al torneo decidono di devolvere la loro quota di iscrizione per la nostra associazione. Quindi saremmo presenti anche in quell'occasione per promuovere le attività dell'associazione ma anche rendere veramente un grazie a tutte queste donne che collaborano con il nostro centro. Riccardo Santoni, ecco proprio alla luce dei recenti fatti di violenza, in quale modo i gestori delle spiagge possono attivamente collaborare con Linea Rosa? Possiamo collaborare con Linea Rosa e lo facciamo da sempre, secondo noi, con un'opera di prevenzione. Per noi il problema della violenza sulle donne è fondamentalmente un problema culturale. Purtroppo i giornali nazionali li leggiamo, i giornali locali, ma soprattutto i nazionali e vediamo che episodi di questo tipo sono effettivamente purtroppo, dico io, all'ordine del giorno. Per cui quello che si può fare è cercare di cambiare culturalmente l'uomo italiano, mi viene da dire, il maschio, un termine che a me non piace, infatti mi piace parlare più di uomo che uno di maschio, perché forse è proprio questa retratezza culturale che crea una situazione così imbarazzante. E nello specifico che iniziative avete attuato? Nello specifico collaboriamo da diversi anni con l'associazione Linea Rosa e abbiamo appunto, come si diceva prima, nell'ottica della prevenzione, cercato di costruire una sorta di campagna informativa che aiuti in qualche modo le donne intanto ad avere dei comportamenti che non la mettono a rischio e contemporaneamente comunque crei quella sensibilizzazione nei clienti e anche in qualsiasi persona perché questi episodi vengano segnalati e vengono in qualche modo il più delle volte evitati proprio prima ancora che succedano. Manuela Fogliera per Ravenna Web TV